Che cose si sono mangiate? Non altro canestro? Ora il canestro è uno... No, non erano mica... Non erano cinquantanove, cinquantadue E questo è un apporto di due anni Se non crea più tutto... Non tedesco! Non ha chiamato! Non cacere! Non cacere! Tornare! Non cacere! Non vedo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.